Buongiorno a tutti da Fabrizio, bentornati come al solito qui sul canale. Allora, non avrei fatto questo video unboxing, perché ovviamente unboxing di iPhone ce ne sono un miliardo su YouTube e non ne serve uno in più. Però mi registro perché per me è una situazione un pochettino strana, ovvero io da quando utilizzo uno smartphone, nella mia vita proprio, ho sempre solo utilizzato Android. Però per tutta una serie di vicende sono finito dentro il mondo Apple, più che altro per il discorso MacBook Pro e nonostante del mio MacBook Pro 2019 non sia molto soddisfatto, ho fatto una sorta di strana recensione che vi lascio linkata qua sopra, qua sopra, non so mai dove compaiono le schede, non sono eccessivamente soddisfatto. Però il discorso è questo, che avendo poi un iPad con cui faccio delle cose, mondo musicale eccetera, e il MacBook con cui programmo, ci lavoro e ci vivo, il fatto di avere un altro dispositivo sempre dello stesso ecosistema, il cosiddetto e tanto famoso ecosistema Apple, mi può venire comodo per certe cose, tipo per esempio continuity, ovvero la possibilità di fare una cosa sul MacBook e trovarsela istantaneamente sull'iPhone, airdropparsi un file, un video che stai girando dall'iPhone, una foto direttamente sul computer o sull'iPad, fare copia e incolla dal MacBook e trovarsi la stringa pronta per essere incollata sull'iPhone, e viceversa che sono cose che per carità si può vivere tranquillamente anche senza, ma nell'ottica di avere poco tempo e cercare di ottimizzare tutti gli strumenti che si hanno al massimo, potrebbe venirmi comoda ed è questo il motivo per cui ho deciso di provare a fare questo salto nel 2019, anno per gli smartphone strano in cui sicuramente l'iPhone 11 Pro ha anche qui, parere mio personale, ma anche parere di tanti, silurato il resto del mercato, quindi ho deciso di fare questo unboxing, così assieme provo a fare il setup appunto da totale neofita di iPhone, nonostante io abbia iOS su un iPad, però appunto sul telefono non ce l'ho mai avuto, vediamo come va il setup anche perché io servizi della mela ne uso veramente pochi, ho quasi tutti i servizi Google, Gmail, Google Photo e via dicendo, e vediamo un po' come va la situazione. Innanzitutto io ho ordinato iPhone 11 Pro in versione 256GB perché penso che 64GB siano un po' pochini, e sì è vero, l'aggiornamento di memoria costa un sacco, come al solito, come tutte le cose Apple, però credo che mi servirà lo spazio per un discorso di cominciare magari a registrarci qualche video se vado in esterna e potermeli portare dietro, magari farci un veloce editing al volo, sempre nell'ottica di magari riuscire a portare un po' più contenuti sul canale, che poi, e lo dico sempre, però vabbè, è sempre un po' complicato incastrare tutti gli impegni, sì è vero, ho anche la Osmo Action con cui mi trovo molto bene, ma ovviamente l'Osmo Action è sempre, è comunque un oggetto in più, ma bando alle cianci e direi di cominciare ad aprirlo, innanzitutto io l'ho ordinato su Amazon perché qui dove sono riesco a comprarlo con un discreto sconto da Amazon, e quindi ovviamente mi conveniva rispetto al prezzo ufficiale, via con le plastichine. Intanto mi è arrivato tutto un po' sporco da Amazon, impolverato, ma vabbè. Allora, prima plastica che togliamo, mettiamo qui di lato, e la confezione Apple, lo sappiamo, per i pro è nera quest'anno, per i non pro è bianca. Sono andato sul pro perché, che carino, vabbè, allora, ovviamente sono stupidaggini, però le confezioni Apple sono sempre belle. Dicevo, sono andato sul pro perché, numero uno, voglio provare ad avere la terza videocamera coltello obiettivo, che non ho mai avuto perché io arrivo da un G6 di LG, che aveva la Wide, la Ultra Wide, ma non aveva il telefoto, poi Galaxy S10e, che è qui di fianco a me, che stesso discorso, ha la Ultra Wide, che io uso tantissimo, io non so come fanno in tanti a dire, ma io non uso l'Ultra Wide, mi interessa di più la telefoto, non lo so. E' una cosa che proprio io non capisco perché penso la telefoto di non usarla molto, ma ho visto da una serie di test di altri YouTuber, che la telefoto nel caso dell'iPhone viene utilizzata, anche e soprattutto per il discorso del Portrait Mode, quindi per calcolare la distanza da un soggetto viene utilizzata questa videocamera. Quindi ho detto, vabbè, senti, già che facciamo la spesa, vediamo. Poi tra l'altro, avendolo comprato con un certo sconto, l'idea è, se riesco poi magari a rivenderlo, quando sarà il momento, magari utilizzando un servizio tipo Swoppy, che te lo compra al volo, quindi senza dover mettere annunci, è vero, ci perdi, ma appunto, se uno riesce a comprarlo con un buon prezzo, non ci perde tanto, e quindi forse, forse, non dico che convenga andare su un iPhone, ma insomma, il discorso della rivendibilità dei prodotti Apple è sempre valido. A questo punto, togliamolo qui dalla confezione, vediamo un po' cosa c'è. Vabbè, qui, prima di tutto, c'è il telefono nelle plastichine, non ho ancora ordinato un case. Prima plastichina, via. Adietro non c'è la plastica, perfetto. Allora, facciamo così, proviamo ad accendolo, io non so proprio niente. Mi piace l'idea di avere il selettore delle modalità silenzioso, non silenzioso, qui di fianco, dell'iPhone 11 Pro, sappiamo che, vabbè, abbiamo schermo OLED, buono, soprattutto confrontato con l'11 normale, per un discorso di durata della batteria, che sembra essere veramente ottima per questo dispositivo, ed è quindi anche questo uno dei motivi per cui l'ho preferito all'11 normale. Ecco qui. Nel frattempo che lui fa la sua routine di accensione, lo mettiamo qui, spero che non faccia troppi riflessi, e andiamo a vedere cosa c'è di altro in confezione. Allora, manuali, ciao, insomma, sappiamo che i manuali... Allora, qui c'è il cosino, lo strumento per la sim che ci serve, abbiamo anche un paio di adesivi che... Ah, io non metto, però sono carini, dobbiamo ammettere che, per carità, l'Apple rompi scatole, però non si sa perché gli adesivi sono carini. Ci sono le cuffiette, allora, io ho comprato, per fare una prova, e poi mi sono piaciute un bel po', ho comprato le AirPods 2, non le 3 Pro, perché a me, sapete, non piacciono le cuffie in-ear. Le AirPods normali, invece, non sono in-ear, le trovo molto, molto comode. In questo caso ne abbiamo una versione con il cavetto Lightning, perché, ovviamente, iPhone 11 ha ancora il cavo Lightning. Cavo Lightning che ho qui, ma ho comunque già disponibile sotto il tavolo, perché ci carico l'iPad. Il caricatore, però, possibilmente, io credo che lo rimpiazzerò con questo qua, perché questo qui è più veloce rispetto a quello dell'iPad. Quindi, facciamo così, togliamo le plastichine anche da qui. Tra l'altro, questa sembra una carta da forno. Va bene, questo, tra l'altro, mi è arrivato correttamente con la spina, diciamo, italiana, stante io abbia ordinato da Amazon Spagna. Chissà se questa spina viene utilizzata un po' per tutte le nazioni europee. Vi dico la verità? Non lo so. Comunque, questo è una sorta di fast charging, quindi, ovviamente, è preferibile rispetto al caricatore dell'iPhone 11 normale, che, invece, è piuttosto lento. Detto questo, io vorrei cominciare a fare il setup prima di inserire la sim, per vedere, non lo so, la configurazione Wi-Fi, queste cose qua. Andiamo a farlo assieme direttamente. Suwipiamo. Io lo vorrei in italiano. Scegliamo la zona. Io vivo in Spagna, quindi devo scegliere Spagna. Inizia subito. Se possiedi un iPhone, un iPad con iOS 11, versione successiva, avvicinali per eseguire l'accesso automaticamente. Chissà che cavolo vuol dire. Allora, io ho l'iPad qui. Vediamo perché può essere interessante. Ah, attenzione, fantastico. Non so se vedete qui, sì, penso di sì. Comunque ha detectato che c'è un iPhone di fianco, configura il nuovo iPhone, utilizza il tuo ID Apple, questo qua, va bene, per configurare il tuo... Eh, sì, diciamoli, continua. Beh, attendo iPad. Posiziona l'immagine nel riquadro mostrato su iPad. Posiziona il nuovo iPhone. Attenzione, ma cos'è questa cosa? Allora, appoggio un attimo l'iPhone qui. Poi vediamo se riesco a farvi... Eh, forse... Ok, incredibile, c'è riuscito. L'ha visto anche se c'è un riflesso incredibile della luce qui che uso ovviamente per il discorso del video. Inserisci il codice di iPad. Vabbè, allora, questo non ve lo faccio vedere. Ok, l'attivazione di iPhone potrebbe richiedere qualche minuto. Eh, ma sei già connesso anche al Wi-Fi. Vabbè, ora c'è da impostare Face ID. Ovviamente iPhone 11 non ha il sensore d'impronta, ha solo la faccia. Vediamo se riesco. Non so se l'illuminazione di questo ambiente per il video è sufficiente. Mi dice come configurare e posizionare il volto nel riquadro della fotocamera. Va bene, inizia. Ci proviamo. Ero mi dice che ho completato la prima scansione. Eh, dobbiamo farlo un'altra. Benissimo. Con la seconda scansione è terminata la configurazione di Face ID. Certo, mi fa un po' strano l'idea di non utilizzare più l'impronta digitale per sbloccare il telefono. Non credo Face ID sia più comodo. Eh, con iPhone 11 Face ID è un po' più veloce di prima. Non lo so, eh, vi farò sapere. Ovviamente, eh, volevo farvi vedere un po' come è tutta la configurazione, ma soprattutto voglio provare subito le app tipo Gmail e Google Photo per vedere come funzionano su iOS e mobile. Dovrò poi configurarmi anche il mio password manager. Io uso Npass. Ve ne devo assolutamente parlare perché, secondo me, è il migliore. Non è sponsorizzato qui. In questo video non c'è niente di sponsorizzato. Però andiamo avanti. Ripristina da backup iCloud. E io, no, no. Trasferisci direttamente l'iPhone. No, ripristina da Mac. No, non trasferire app e dati. Eh, boh, direi non trasferire app e dati. La configurazione di Apple potrebbe richiedere qualche minuto. Va bene, lo lasciamo stare. Termini e condizioni. Attenzione, leggere ovviamente tutto, ogni dettaglio di questa schermata. Localizzazione. Abilitiamo i servizi di localizzazione. Sì, per forza, perché è Apple troppo. Sicuramente vorrò provare ad utilizzare Apple Pay tipo al supermercato. Me la configuro con la mia fantastica Revolut, che uso sempre. Sono molto contento. Anche questo non sponsorizzato. Revolut che fa tante cose bene. Ne ho parlato in un altro video. Andatelo a cercare qui sul canale o ve lo linko. Però fa anche delle cose che ogni tanto mi fanno girare le scatole. Diciamo che Apple Pay lo configuro dopo. Quindi configuriamo in seguito. Analisi iPhone. Aiuta Apple a migliorare. Io sinceramente non voglio condividere i dati. Vai alla schermata Home. Passa da un'app all'altra. Sì, bisogna solamente fare swipe solo fino a metà. Sì, è vero. Accedi rapidamente ai controlli dall'alto. Ok, questo è abbastanza naturale. iPhone ti dà il benvenuto. Quindi da qui sblocchiamo e siamo nella Home. Applicazioni. Vediamo, ce ne sono già un tote. Ah, c'è anche Apple TV. Tra l'altro dovrei avere accesso a Apple TV Plus per un anno gratis, se avendo comprato iPhone. Vedremo. Anzi, proviamo a vedere se me lo dà o se non me lo dà. Apple TV ti dà il benvenuto. Guarda ora. Ho già il mio account configurato. Apple TV Plus. Attenzione. Ah, vedi? Eccolo qua. Disfruttate un anno gratis. Allora, me lo dice in spagnolo. Purtroppo, vivendo in Spagna, ma configurandomi il telefono in italiano, ho sempre mezzo in italiano e mezzo in spagnolo. Vabbè, è così. Apple TV Plus è stato criticato abbastanza, perché i contenuti non sembrano essere fenomenali, ce ne sono anche pochi, ed è per questo che stanno dando un anno gratis a tanti, insomma, per farli abituare. Potrebbe anche essere che, continuando ad acquistare prodotti Apple o servizi Apple, Apple TV Plus continui ad essere gratis. Non lo so. Sinceramente lo proverò per darci un'occhiata, per vedere come funziona. Quindi io gli dico in questo momento, provalo. Posso attiprovi da un anno, dopodiché da novembre 2020 4 euro al mese. Vabbè, allora, ovviamente qui ti fanno fare così la configurazione, già impostato col prepagamento per l'anno prossimo, così poi te fregano. Mentre che aspettiamo qui che si sbrighi, vorrei fare un confronto dimensionale con Galaxy S10. E l'iPhone è forse un millimetro più alto, o due millimetri più alto, lievemente più largo, ma ha quasi, quasi proprio lo stesso ingombro. Devo dire, S10 è un po' scivoloso, ma come dimensioni fantastico, secondo me. Cornici che sono molto sottili, anzi, posso dirvi, che le cornici sono ancora più sottili sul Galaxy S10 rispetto che all'iPhone 11 Pro, nonostante S10 sia uscito alcuni mesi prima. Notiamo sia le cornici laterali, sono quasi uguali, ma sono comunque un pochettino più sottili su S10. Quella in alto, ovviamente iPhone ha un mega notch, dove c'è tutto il Face ID, eccetera, eccetera, va bene. Quella in basso è un pochettino più spessa, quella di S10, però comunque è comparabile, no? Quindi, diciamo, il rapporto ormai superficie totale, superficie schermo, è molto elevato, quindi comunque avere un dispositivo da 5 pollici e 8, quasi 6, molto portabile, molto comodo in tasca, eccetera, è comunque veramente comodo, quindi non andrei su dispositivi ancora più grandi. Qualità del display. Vediamo un po' se alzo un po' la luminosità. Non ho impostato niente, come avete visto, quindi luminosità automatica, quasi al massimo anche su iPhone. L'iPhone mi sembra un pochettino più bello, ma vabbè, direi siamo lì, vabbè, queste cose dovrò poi vederle con un po' più di tempo, però le immagini, per esempio, su S10 sono molto belle, ma devo dire anche poi su iPhone, non lo so, poi dopo questo confronto così al volo, diciamo che sono sicuramente tutti e due degli ottimi display, ma poi è anche probabile che il display di Apple sia fatto da Samsung, è anche possibile e probabile. Allora, intanto non ha funzionato la configurazione di Apple TV+, chissà se funzionerà in un secondo momento, disfruta da un agno gratis, riproviamo, lasciamo che termini la sua configurazione, qui mi continua a dire, disfruta da un agno gratis, ma immagino che, non lo so, si sia configurato, lo chiudiamo e lo riavviamo, attenzione, Apple TV+, disponibile ora The Morning Show, va bene, in questo momento non lo guardiamo, impostazioni, anzi, andiamo nell'App Store e vediamo innanzitutto di cercare Gmail e vediamo cosa succede, questa sembra l'applicazione originale, quindi clicchiamo sulla scheda e gli diciamo di scaricarla, perché ovviamente Gmail per me è fondamentale, perché la uso per tutto, per vivere, per lavorare, e poi, mentre che fa questa cosa qui, vediamo anche se troviamo Google Photo, ma il famoso feed della vibrazione, in questo momento non lo sento, non so quando si attivi, chi lo sa, poi nel frattempo mi scarico anche il fantastico Asphalt, che è l'unico gioco mobile che ogni tanto utilizzo, ci pasticcio un po', vabbè, perché è bello di grafica, no? va bene, gli diciamo di scaricare, così cominciamo a riempire questi 256 GB, e anzi, andiamo a vedere nelle impostazioni quanto spazio abbiamo disponibile, dove ce l'abbiamo questo dato qui, eccolo qua, spazio iPhone, e vediamo che abbiamo 13 GB utilizzati di 256 GB, ovviamente in questo momento non è che ci possa interessare di risparmiare spazio, però 13 GB chissà utilizzati da cosa, vabbè, lo vediamo qua, c'è GarageBand, e vabbè, un po' di app, ok, GarageBand e i movie, installarle di default, magari, non è che siano così fondamentali, magari se lo potevano risparmiare, però, che sono le uniche app un po' grosse, se togliamo praticamente 2 GB e mezzo, tra GarageBand e i movie, ne occupa così, senza far niente, 10 su 256, comunque, va bene così, allora, innanzitutto, vediamo se le applicazioni sono già state installate, Gmail, eccolo qua, ovviamente mi dirà che non ho ancora configurato un account Google, lo configuriamo, desidera utilizzare google.com per l'accesso, va bene, allora, metto la mia configurazione, ovviamente ho già configurato e accettato la doppia autenticazione, autenticazione due fattori, ragazzi, molto importante, e dovrò anche qui fare un video sulla sicurezza, perché è necessario per tutti i siti veramente importanti per voi, banche, mail, perché la mail, ormai se ci si durano l'account Gmail, è un casino, poi non so, Twitter, social network tipo Facebook, attivatevi l'autenticazione a due fattori, vi chiederà di accettare il login anche da un telefono, da un altro dispositivo, ma è fondamentale, comunque devo dire la verità, Gmail ha funzionato così al primo colpo, benissimo, vediamo Google Foto, penso si autenticherà automaticamente utilizzando Gmail, chi lo sa, Google Foto vorrebbe accedere alle tue foto, vabbè, è per forza, vorrebbe inviarti delle notifiche, le notifiche di Google Foto a me non mi interessano, gli dico di no, lasciare le notifiche disattivate, lascia disattivato, tieni le tue foto al sicuro, esegui backup come Fabrizio, sì esattamente, lo voglio usare proprio per quello, le foto su Google Foto, le facciamo, le backupiamo in alta qualità, così che sia gratis, bene, ha già recuperato le foto, non mi sono dovuto fare altre autenticazioni, né di nessun tipo, ragazzi, guardate la mia pizza, prima o poi comincerò a fare anche video, anche di pizza sul canale, lo so, non li vorrete vedere, mi bannerete, però, che vi devo dire, ogni tanto, ci va qualcosa, diciamo di alternativo, devo dire innanzitutto, il setup della parte Google, molto rapida, senza zero problemi, quindi devo dire, sono contento da questo punto di vista, voglio vedere due cose, prima di chiudere questo video, due cose, magari non eccessive, una, vabbè, è importante, ed è sicuramente la videocamera, e l'altra è provare a vedere un video, per vedere come suonano gli altoparlanti, allora, torniamo sull'App Store, e scarichiamo l'applicazione di YouTube, e che cavolo, ho scaricato Asphalt, e non ho scaricato YouTube, vediamo un po', attendiamo un secondo, che si configuri, anche in questo caso, immagino che l'autenticazione, insomma, sia automatico, vorrebbe inviarti delle notifiche, vabbè, consentiamo le notifiche di YouTube, dai, dopodiché, anche strano, è un pochettino diversa da quella Android, allora, voglio andare a vedere il mio canale, perché non metto video di altri, ma solo per un discorso, che non vorrei si triggerasse l'algoritmo, diciamo, del content ID, della protezione copyright, a pubblicità, vabbè, ovviamente, ci sorbiamo un secondo di pubblicità, saltiamo l'annuncio, e poi vediamo, inizio a discuteremo dell'argomento, i prezzi delle case alle caratteristiche, allora, ciao a tutti da Fabrizio, bentornati qua, qui, come al solito, funziona, vabbè, abbassiamo, funziona il pinch to zoom, per, diciamo, riempire tutto schermo, c'è il fantastico notch, vabbè, non è una novità, quindi non ne stiamo neanche a parlare, che occupa un sacco di spazio, però, poi alla fine uno se lo dimentica, però effettivamente, rispetto a questo telefono, che, invece, il notch non ce l'ha, insomma, sì, c'ha il buco della fotocamera, però, a me devo dire la verità, questo buchetto della fotocamera, che poi dà il via a questi giochi, da vita, a questi giochi, diciamo, di background, per nasconderlo, è veramente, a me piace, a me, devo dire la verità, piace, questo notch megalitico, non è il massimo. Allora, dovrei sentirci della musica, a dire la verità, sta scaldicchiando, ma non so se stia facendo, magari, degli aggiornamenti, vabbè, tutti i telefoni scaldano un po', S10, non scalda esageratamente, qui sto notando una temperatura, abbastanza elevata, non so, ovviamente vi riporterò, poi, le sensazioni in sicuro, in futuro, gli altoparlanti non mi sono sembrati così fenomenali, come dicevano, bisogna sentirci della musica, e come fare a sentirci della musica? Io ho tutti i miei, i dischi che mi sono comprato, comprato, nella vita su Google Play Music, Google Play Music c'è, ecco, questo ero dubbioso, pensavo che magari non ci fosse su iOS, diciamo, in favore di YouTube Music, che invece mi fa abbastanza schifo, YouTube Music, scusate, e quindi, no, sono tutto sommato contento, perché almeno mi posso portare dietro tutti gli MP3, che, insomma, che ho, anche qui, autenticazione istantanea, ecco che si è già scaricato tutti i brani, ora, non ve lo faccio sentire, perché questi sono sicuramente protetti da copyright, però, ascolto un secondo io, e vi dico un po' come va. Allora, vi dico la verità, audio buono, però, a me sembra, quasi più bello l'audio di S10e, eh, non lo so, vedremo poi anche questo col tempo, come, come, come si evolverà. Allora, fotocamera, la fotocamera, sicuramente la velocità di scatto di iPhone è imbattibile. chissà se c'è la possibilità di aprire la fotocamera in maniera veloce, con il tasto di accensione, qualcosa del genere. Allora, vedo che c'è la scorciatoia qui, è abbastanza veloce, però, allora, qui ovviamente è la mia ignoranza riguardo ai, tra l'altro mi ha sbloccato, nonostante tenessi il telefono orientato verso la videocamera, mi ha sbloccato bene, non mi, sicuramente non mi dispiace tutto ciò. Vediamo se lo tengo così, anche così mi ha sbloccato, beh, devo dire niente male. Se lo appoggio sul tavolo, qui vedrete magari solo riflessi, e così, così non mi sblocca, però così invece mi sblocca. Ovviamente devo poi swappare, swappare, che magari non è il massimo, non lo so, l'impronta digitale qui su S10 è fenomenale, anche come velocità lo vedete, cioè, niente, cioè, veramente questo telefono è un gran telefono. Certo che tra tutto, mi sono dimenticato questa cosa, ovvero, io voglio portarmi dietro i contatti che ho salvato nell'account Google, quindi Google Contacts, anche come numeri di telefono. Chissà se si può fare, perché ovviamente io qui ho nuovo contatto, ma non mi interessa. Se io voglio importare i contatti da Google, Google, non so come fare, contatti, aggiungi account, Google, impostazioni di desiderio, certo, anche qui devo rifare il login, benissimo, siamo loggati, qui mi dice che mi sta sincronizzando sia mail, questa come si fa a togliere, mamma mia non sono capace, ok, con la X, mi sta sincronizzando i calendari, le note che, i contatti, e anche le mail, va bene, vediamo, diciamogli di salvare, e vediamo un po' che cosa fa. Nel frattempo, vediamo un po' se qui si è già popolato qualcosa, non si è ancora, attenzione, non vi faccio vedere però, li ha scaricati, ottimo anche, diciamo da questo punto di vista, le mie preoccupazioni principali sembrano essersi tutto sommato risolte semplicemente. Allora a questo punto, questo video è già diventato stratosfericamente lungo, quindi a questo punto io lo interrompo qui. Ragazzi, di nuovo, chissà, non lo so, voglio provare questo strumento per i discorsi che vi facevo prima, ovvero cercare di fare più cose più rapidamente senza perdere tanto tempo, e anche perché Android per il discorso degli aggiornamenti software, ma un po' scocciato, la personalizzazione sì, ma poi alla fine io tutto sommato non personalizzo niente, quindi non lo so. Se volete darmi dei consigli o delle idee su come utilizzare, per esempio, l'iPhone al meglio, cose che io non so perché appunto sono totalmente ignorante sul mondo iPhone, lasciatemi un commento qui sotto, se poi ne avete voglia, vi potete magari iscrivere al canale, abitare le campanelle, tutte quelle storie lì, io continuo qua a setappare, a utilizzare, a cambiare, e vediamo un po' come va, vi farò sicuramente sapere, detto questo ragazzi, ci sentiamo qui sotto nei commenti, in giro per internet, contattatemi come al solito, a me fa sempre piacere rispondervi, e detto questo, ci vediamo presto, sempre qua sul canale, per un nuovo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!